8 settembre, buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV, canale 17 del Digitale Terrestre. Occhi giornali, il commento alla stampa del giorno che comincia con il santo di oggi, oggi la chiesa ricorda la natività della Beata Vergine Maria, la nascita della Madonna, il sole è sorto alle 6.40, tramonterà alle 19.30, adesso andiamo a vedere il tempo. Dal sito della protezione civile delle Marche, come vedete per oggi cielo sereno o poco nuvoloso, al mattino parzialmente nuvoloso, con nuvole medio-alte stratificate, poi sereno il pomeriggio. Domani ancora cielo sereno su tutta la costa adriatica, un po' di nuvole invece sull'Appennino, stessa cosa per la giornata di venerdì 10, un po' di venti lungo la costa sudorientale. Il tempo sarà ancora bello per il fine settimana. E dovrebbe confermarci questa previsione anche Enzo Monachesi, che è collegato con noi anche questa mattina dalla spiaggia di Velluto di Senigallia. Buongiorno Enzo. Buongiorno. Piccolo Ido, allora come vedo anche oggi un bel sole che ti splenda alle spalle. Che dici Enzo questa mattina? Vi faccio vedere l'alba che è una cosa magnifica, ogni giorno diversa, ogni giorno entusiasmante. Non ti annoia quest'alba che tu vedi tutte le mattine ormai da parecchie settimane? Non ti annoia mai? Guarda, non annoia mai perché tutti i giorni è diversa, tutti i giorni ha il suo fascino, tutti i giorni ha qualcosa di particolare, energizzante. Certo. Allora abbiamo detto che il tuo stabilimento, uno dei due stabilimenti, perché ne hai due in gestione, tu sei il titolare, questo è uno tra i più grandi immagino di Senigallia, che dici? Sì, non è il più grande, però diciamo che la taglia è medio grande, sì. Ecco, i servizi immagino sono quelli che offrono ormai quasi tutti, quindi dalla ristorazione piuttosto che l'angolo per... Sì, diciamo che adesso è necessario dare un servizio H24, perché chi sceglie la vacanza balneare decide di stare il più tempo possibile in spiaggia. Quindi è necessario coprire tutte le ore del mattino, quindi dalla colazione al pranzo, magari veloce, carino, anche sotto l'ombrellone, è tutto quello che può servire, insomma. Ma ecco, quindi è necessario avere degli spazi dedicati un po' a tutto, ai piccoli, ai grandi, al gioco, al riposo. Quindi non è semplice, perché vanno studiati molto bene gli spazi. Ecco, allora volevo un attimo, ne approfitto con la rassegna stampa, ovviamente siamo all'interno di una rassegna stampa, ti faccio vedere questo PDF, questa pagina di Senigallia di oggi del resto del Carlino, il titolo è Ruba sotto gli ombrelloni il ragazzo arrestato, grazie alle segnalazioni e alle telecamere i carabiniere hanno fermato un 23enne che aveva nell'auto portafogli e telefonini. Ora, questo, Enzo, è un problema che esiste in ogni spiaggia del mondo, quello dei furti, quello dei... Però noi ci siamo occupati, anche durante l'inizio di questa stagione, dei vandalismi, che come giustamente dici, insomma, sono due cose diverse, un contro il furto, un contro il vandalismo. Ma esiste questo problema? Ma guarda, quello del furto, come hai spiegato molto bene tu, esiste in tutte le parti del mondo, direi che non è un problema particolare di Senigallia, non è particolare della costa adriatica, si sta molto bene da noi, queste cose sono rarissime. Mentre invece la questione del vandalismo è più complessa, perché le fasi notturne, serali, della spiaggia sono sempre molto critiche, tant'è che quasi tutti gli stabilimenti balneari si sono attrezzati un po' per difendere le attrezzature, con servizi di vigilanza, con persone che comunque restano fino a tardi, perché invece la questione del vandalismo è una piaga sociale, che non è una cosa che scopriamo questa mattina. Ho capito. Grazie, Enzo, molto preciso come sempre, ci vediamo domani mattina. Buon lavoro. Grazie a voi. Partiamo allora con il resto del Carlino, edizione di Pesaro. Questa mattina la notizia è quella che riguarda la morte, la tragica morte di un ragazzo di 21 anni. Schianto, fuga e poi il suicidio. Un 22enne provoca un lieve incidente, scappa e poi si uccide travolto dal senso di colpa. L'immagine di questo giovane che a 21 anni abitava da solo nel casolare dei nonni a Sant'Angelo in Vado, siamo in provincia di Pesaro Urbino, preso dal senso di colpa con i carabinieri che erano dentro casa. ha chiesto un attimo di andare di là in camera con la scusa, ha preso il fucile e si è sparato in volto. Questa è la tragica, drammatica notizia di oggi. Poi, nidi, si parte, c'è un solo Novax, oggi il rientro dei bimbi da 0 a 3 anni, una educatrice su 218 sprovvista di carta verde, esclusa dal servizio. E poi, in una media di Monbaroccio, insegnante non ha il Green Pass, messo fuori dalla scuola, chiama subito i carabinieri. Ancora, dalla prima del Carlino, in Via Trave a Fano, residenti contro le isole in cemento, non servono a rallentare le auto. E poi, sul Covid ancora, la scuola, fame di aule al campus di Pesaro, facciamo lezioni nei prefabbricati. E poi, si prepara la revoca sull'ospedale, quello che sarebbe dovuto sorgere come ospedale unico, almeno nella vecchia giunta Ceriscioli, project financing, la regione butta tutto nel cestino. E poi, sotto, la VL non delude, Bologna soffre nel finale, visi il dramma di Tonso, ieri operato al volto. E poi c'è la storia, che vedremo tra poco, che è successa all'interno di una coppia, dove lui pensava che la sua carta fosse stata clonata, la sua carta Bancomat fosse stata clonata da qualche malvivente, perché a un certo punto è rimasta bloccata, non c'erano più fondi. Poi ha scoperto, in realtà, che questi soldi li aveva prelevati la compagna per pagare i debiti che nel frattempo aveva accumulato, compresa l'estetista e quant'altro. Andiamo sul Carlino di Ancona, a vedere la pagina, anche qui la fotonotizia riguarda una tragedia ed è quella che si è consumata a Senigallia, vittima una professionista del ciclismo di 35 anni. Secondo la polizia stradale, la 35enne in moto è stata urtata da un'auto e poi forse travolta da una seconda vettura. La procura indaga per duplice omicidio stradale. Il titolo, tu e Michele, il campione di ciclismo, anche lui vittima di un incidente stradale, ora insieme. Il mondo del ciclismo sconvolto dalla morte di Jennifer Fiori. E poi, ancora dalla prima di Ancona, lo scoglio dei 300.000 senza vaccino, le marche non riescono ad arruolare nuovi immunizzati e le prenotazioni stanno andando troppo a rilento. Il Corriere Adriatico, nidi e asili, educatrici sotto test, questa è l'edizione di Pesaro, controlli sui certificati, l'assessore Ceccarelli dice su 218 verifiche, finora solo un allontanamento. Servizi scolastici, comune irremovibile, a chi non si vaccina non garantiremo i tamponi gratis. A centropagini invece causa un incidente, si uccide a 21 anni, tragedia all'unano per uno scontro da pochi danni. Sotto ragazzini e vandali danneggiano auto e pompe antincendio, è successo a Pesaro. Operazioni Varchi e per San Nicola, la fiera, già scattano i divieti, mentre a Fano schianti a catena, paura per una mamma e una figlia di due anni. Ancora da Pesaro, lavori al cavalcaferrovia, in quattro anni appena 70 metri, un cantiere infinito, l'opposizione attacca l'amministrazione, i distacchi sono del 2017, da allora interventi a singhiozzo. Per la VL una sconfitta, con la Virtus finisce 92 a 83. Ma, attenzione, c'è questa notizia di spalla che pubblica il Corriere questa mattina, no al Green Pass, nelle università, prof marchigiani firmano una petizione. E allora, oggi è davvero una bella giornata. Una bella giornata perché? Perché, perlomeno, si pensava che tutta Italia fosse ipnotizzata da questo pensiero unico, allineati tutti quanti dal primo all'ultimo a questo diktat. In realtà non è così. E oggi lo scopriamo attraverso il Corriere Adriatico e pubblica due pagine a questa, direi, bellissima notizia. Andiamo a vederla. Marche no al Green Pass negli Atenei. Prof e ricercatori firmano la petizione. Allora, di che cosa stiamo parlando? Fra le oltre 300 firme di accademici di tutta Italia, ce ne sono 11 di queste firme marchigiane. Sono ricercatori e professori ordinari della Politecnica, ma anche delle università di Urbino e Camerino che hanno sottoscritto la petizione contro il Green Pass negli Atenei. Appello spinto pure dallo storico Alessandro Barbero. Allora, secondo i docenti, teniamolo così, magari mettimi nel riquadro. Allora, secondo i docenti che hanno firmato la petizione nella situazione attuale, o si subisce, scrivono, il Green Pass, oppure si viene esclusi dalla possibilità di frequentare le aule universitarie. E nel caso dei docenti si è sospesi dall'insegnamento. Tutto questo viola quei diritti di studio e formazione che sono garantiti dalla Costituzione e rappresenta un pericoloso precedente. Allora, andiamo a vedere chi sono questi coraggiosi, coraggiosissimi, devo dire, professori, ricercatori, non giornalai come me, o quelli che fanno il giornalista e dovrebbero essere super partes, questi sono alcuni degli insulti che ricevo tra i più gettonati, non un giornalai come me, ma professori, ricercatori, gente che ha studiato fitto. E allora, andiamo a vedere chi sono questi qui che la pensano come me. E come tanti, ancora, per fortuna, alla Politecnica delle Marche hanno, che non sono allineati, alla Politecnica delle Marche hanno aderito Simona Naspetti, ordinario di Economia ed Estimo, Michela Rancanna, ricercatrice, Raffaele Zanoli, ordinario al Dipartimento di Scienze Agrarie, Dario Genovese, professore di Fisica e Matematica, Aldo Franco Dregoni, professore associato di Ingegneria. Mentre i ricercatori dell'Università Carlo Bò di Urbino sono Manolo Farci, Marco Dorati e Rosalba Rombaldoni. Mentre dall'Università di Camerino hanno aderito Vincenzo Cuteri, professore malattie infettive degli animali domestici, Giuseppe Feticcio, ordinario di Fronologia e Stefano Isola, ordinario di Fisica e Matematica. Allora che cosa chiedono? Chiedono semplicemente che si avvii un serio dibattito politico nella società e nel mondo accademico tutto, per evitare ogni penalizzazione di specifiche categorie di persone in base alle loro scelte personali e i loro convincimenti, per garantire il diritto allo studio e alla ricerca e l'accesso universale, non discriminatorio e privo di oneri aggiuntivi, che sono di fatto discriminatori, a servizi universitari. I rettori delle università marchigiane hanno applicato le misure dettate dal governo. Questo si difendono, il rettore Gianluca Gregori, per esempio, così come Claudio Pettinari, che non ne vogliono sapere di cui noi abbiamo fatto quello che dice il governo, oppure come il rettore Giorgio Calcagnini, siamo sulla seconda pagina del resto del Carlino, che dice a me arrivano i mail anche da studenti, da parte di studenti, contro l'obbligo di certificazione, dice appunto Calcagnini, ma alla domanda viene riputata illegittima la discriminazione introdotta ai danni di una minoranza. Lei che ne pensa? E lui risponde, non posso esprimere un giudizio di valore sul provvedimento, l'università sta applicando quanto previsto dal decreto ministeriale di inizio agosto. Voi vedete, nessuno vuole sporcarsi le mani, nessuno vuole dire una parola fuori posto, tutti terrorizzati, tutti hanno paura, tutti devono fare premesse su premesse per poter dire, nella speranza di non essere etichettato come Novax, io sono vaccinato, io ho fatto questo, però forse questo Green Pass, ma devono fare tante premesse prima di poter esprimere un loro parere. Ma dire semplicemente no, io sono contro questa stupidaggine, no, non si può dire, devi fare tutte le premesse, paura di che? Per paura di cosi? Perdere il posto di non essere più nelle grazie di qualche potente di turno? Ma andiamo avanti, ma sentite che cosa scrivono i docenti, come giustificano i docenti questa firma alla petizione. Allora, Vincenzo Cuteri, l'abbiamo sentito poco fa, che cos'è? Chi è Vincenzo Cuteri? È un professore dell'università che dice ho firmato per tutelare la libertà, una misura ridicola che fa solo abbassare i livelli di attenzione. L'abbiamo sempre detto, chi ha il Green Pass? Io ho visto gente entrare al bar con il telefonino così, come se fosse un distintivo della Polizia dello Stato, uno sceriffo, sceriffo della Contea di New York. Io ho il Green Pass, ma nessuno te l'ha chiesto, metti dentro il telefono, sta tranquillo e vivi in pace. Io ho il Green Pass, ancora prima che glielo chiedano. Detto questo, per farvi capire un po', ma tanto sono cose che si vedono ogni giorno, sono ormai diventate di ordinaria pazzia. Vincenzo Cuteri, dicevo, professore di malattie infettive degli animali domestici all'Università di Camerino, scuola di bioscienze e medicine veterinaria. Allora, la domanda è, perché ha deciso di firmare la petizione contro il Green Pass? La risposta è, dai report di numerosi paesi, si conferma l'ipotesi che un soggetto vaccinato possa infettarsi, contagiare e ammalare, talvolta anche in maniera più grave. Dunque non si tratta di una misura sanitaria volta a tutelare la nostra salute. Tutto ciò traspare anche dalle ridicole applicazioni del Green Pass. Sotto, chi come me firma per l'abolizione di questo Green Pass sta solo tutelando la libertà, il diritto al lavoro e il diritto allo studio, senza discriminazione di alcun genere. Poi, la domanda di Martina Marinangeli, dovrebbe essere lei, MM. Allora, lei è vaccinata, lei è vaccinato, domanda, la risposta del professore. Affinché un vaccino sia considerato tale, deve sempre rispondere a due requisiti, efficacia e sicurezza. Questi vaccini non rispecchiano alcuno dei requisiti, non sono efficaci perché non proteggono dall'infezione, anche in soggetti con doppio o addirittura terza dose. E la protezione nei confronti della malattia è insignificante. Ora, oggi che sono iniziate le autopsie sui soggetti deceduti dopo la vaccinazione, si evidenzia quello che già era stato confermato sugli animali, cioè che la proteina spike è tossica, è in grado di indurre alterazioni vasali permanenti e può indurre alterazioni del sistema nervoso centrale e tante altre patologie. Inoltre, ancora non conosciamo quali saranno gli effetti a medio e lungo termine. Da studioso di virus, da circa 30 anni, non parteciperò mai ad una simile sperimentazione. Non lo dice un giornalaio come me, ma lo dice un professore di malattie infettive degli animali domestici all'Università di Camerino. Poi, l'altra persona, invece, l'altro professore che ha firmato questa petizione è il professor Raffaele Zanoli. L'altro è, abbiamo detto, Vincenzo Cuteri, lo vedete qui a sinistra. Cuteri e poi Zanoli. Ok, cosa dice Zanoli? Velocemente. Zanoli dice Il vaccino non riduce la possibilità di contagi, meglio fare testa a tutti. Negli Atenei non ci sono stati focolai. Vado direttamente sotto. L'obbligo dei sieri, io sono contrario, non si vince la guerra con bombe atomiche. Allora, la domanda è sarebbe d'accordo con l'obbligo vaccinale se il governo decidesse in questo senso? Tra l'altro solo Draghi, il vostro Presidente del Consiglio, vuole questa cosa. Tutti gli altri, se andiamo in giro a cercare in Europa, prima di parlare di obbligo vaccinale, insomma, deve andarci piano. Invece no. Draghi, che tra l'altro è stato un banchiere, quindi con i numeri ci sa fare, è uno che guarda solo i numeri. Se si è messo in testa che deve raggiungere l'80% il 90%, quello è e quello deve essere. Ma noi non siamo numeri, siamo persone. caro Presidente del Consiglio. Quindi, i suoi risultati, i suoi target, a noi non interessano. A noi interessa la salute, a noi interessa il nostro corpo, a essere liberi e non condizionati perché lei deve raggiungere e farsi bello con tutti i suoi colleghi in tutto il mondo. Ecco, non è una banca quella che sta governando. Ecco, sono persone. detto questo, andiamo a vedere cosa risponde il professore. Sarebbe d'accordo lei con l'obbligo vaccinale se il governo decidesse in questo senso? Non sono d'accordo con l'obbligo vaccinale perché non è previsto per questo tipo di vaccini. Da noi c'è l'obbligo vaccinale per malattie che esistono da secoli e per le quali ci sono vaccini sperimentati da più di 25-30 anni e per cui l'eradicazione è possibile. al momento la battaglia è ancora all'inizio e bisogna muoversi con cautela non pensando di poter vincere la guerra cioè quella contro il virus con bombe atomiche quindi i vaccini che lasciano più morti poi morti e feriti. E c'è un'altra cosa ancora più importante ovvero la democrazia prevede che ci sia la tutela delle minoranze anche se pensano cose strane irragionevoli o antiscientifiche. Invece tutto ad un tratto nel nostro paese è scomparso il diritto ad avere opinioni diverse tutto ad un tratto nel nostro paese è scomparso il diritto ad avere opinioni diverse tutte ad un tratto lo dice un professore lo dicono 300 professori viva Dio fortunatamente io pensavo che l'Italia fosse ormai tutta ipnotizzata invece qualcosa sta iniziando a cambiare e il fatto che inizi dalle università da questi luoghi importanti dove si formano eccetera è già un sollievo quindi oggi è una bellissima notizia è oggi una bellissima giornata allora andiamo adesso invece alle notizie tragiche torniamo nelle pagine interne le notizie che riguardano la cronaca e soprattutto questo fatto che è avvenuto a Sant'Angelo l'invado nella provincia di Peso Urbino un ragazzino un ragazzo di 21 anni che provoca un incidente poi fugge torna a casa arrivano i carabinieri lui va in camera e poi si uccide si è tolto la vita a 21 anni con una fucilata mentre i militari e la madre lo stavano rassicurando che il sinistro non aveva avuto conseguenze gravi però qualcosa deve essere successo nella mente di questo giovane e a un certo punto a un certo punto ha deciso che doveva andare così chi era questo venturenne lo descrive il giornale questa mattina un appassionato di musica di motori come tutti i ragazzi di questa età insomma le serate le sue passioni aveva perso il padre per una malattia qualche anno fa e tanti ricordi adesso in questi come spesso succede sui social tante persone che scrivono frasi per ricordare il breve passaggio su questa terra di questo giovane andiamo sull'altra pagina ecco quella di Urbino del Corriere Adriatico anche qui causa un incidente in auto e fugge il titolo arrivano i carabinieri lui si spara Nicolas Matteucci 21 anni era giunto a casa dei militari lo schianto poco prima invece a Lunano ma senza feriti insomma tutto un banale incidente se vogliamo ecco un banale incidente che però evidentemente è diventato qualcosa di più nella testa di questo di questo giovane ha chiesto di andare a trovare dei documenti in camera invece ha preso il fucile legalmente detenuto e poi si è ucciso il gesto per un eccessivo senso di colpa famiglia già sofferente per un lutto doloroso una vita però senza ombre queste sono sono le due pagine dedicate a questa tragedia poi c'è un'altra invece a Senigallia a Sassoferrato dove incredulità sconcerto dolore per l'imprevisa morte di Jennifer Fiori la centaura 35enne che ha perso la vita lunedì pomeriggio in un incidente sulla Corinaldese difficile rassegnarsi a quell'appuntamento fatale con il destino di una campionessa in sella ad una moto comprata solo nove giorni prima indagati intanto i conducenti dei due veicoli coinvolti nell'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale sia per il 77enne dell'auto che si è messa sulla Corinaldese sia per il 28enne che sopraggiungeva in direzione opposta ipotesi di reato appunto omicidio stradale mentre l'altra notizia da macerata quella famiglia padre madre figlio genitori 80enne il figlio 54enne lo ricorderete l'abbiamo detto ieri abbiamo raccontato ieri quest'altra storia di solitudine una famiglia trovata morta in casa adesso sia l'abitazione che i certificati medici sono stati sequestrati dalla polizia stiamo parlando di questo dramma della solitudine che è avvenuto a Borgo Santa Croce questa mattina ci saranno le tre autopsie l'ipotesi principale della procura resta quella del decesso per cause naturali per chi non avesse seguito ieri la rassegna allora parliamo di questa madre padre e figlio trovati senza vita in casa dopo mesi sequestrata la villa la polizia ha acquisito anche i certificati medici del figlio oggi le autopsie per cercare di capire quali siano state le cause della morte di Eros Canullo ex imprenditore di 80 anni della moglie Angela Maria Moretti 77 anni insegnante in pensione e del figlio Alessandro 54enne invalido dopo un drammatico incidente stradale venuto una trentina di anni fa i corpi sono stati trovati lunedì mattina in avanzato stato di decomposizione nella loro villa al civico 72 di Borgo Santa Croce e i soccorritori erano intervenuti dopo la segnalazione della sorella della 77enne che vive a Milano e che non riusciva più a mettersi in contatto con i parenti e adesso vedremo che cosa diranno appunto questi esami tossicologici e quant'altro a Pesaro invece vandali ragazzini sono bravate non stop auto e sistemi antincendio danneggiate qui siamo a Pesaro guardate queste due fotografie uno si riferisce ad un'auto con i finestrini rotti l'altro invece l'altra foto è l'impianto antincendio danneggiato quindi vedete hanno tirato fuori il tubo rotto di velto un po' tutto quanto insomma sono episodi che si sono verificati a Cinque Torri e a Torraccia due quartieri di Pesaro Gambini porta l'aggressione di Piazza Puccini poi in Consiglio Comunale da Vallefoglia nuovi asfalti per 610 mila euro l'elenco delle strade interessate aggiudicati i lavori che partiranno a breve a cura del Consorzio Costruttori di Sant'Arcangelo e poi da Fano invece schianto per paura per una bambina Doblò contro un'auto in Via Pertini a bordo una madre con la figlia di due anni accertamente poi in ospedale altro sinistro invece in Viale Gramsci coinvolto un ciclista a 14 anni travolto da una motocicletta ferita invece la Centaura poi per quanto riguarda la ciclabile appalto da 515 mila euro Arzilla sette mesi per i lavori Tonelli l'assessore dice il materiale scelto si sposa con l'ambiente e poi Carloni che vede Enel e in calza impianto liscia e passeggi mentre la pagina di Fano del Carlino su Via Trave la rabbia non rallenta è la rabbia dei residenti che continuano a manifestare perplessità e a protestare contro queste isole in cemento appunto su Via Trave la soluzione che serviva per migliorare la pericolosità di questa strada invece sta creando più danni che altro un giorno in 15 minuti ho contato 45 auto che non avevano dato la precedenza andiamo invece nella pagina di Osimo per ricordarvi e qui ne approfitto perché c'è un cambio di programmazione anche nella nostra emittente allora andiamo sul giornale festa della Madonna abbiamo detto la natività di Maria sport e sorvolo degli aerei Loreto dedica la giornata ai campioni che accenderanno la lampada la lampada è quella per l'Italia saranno il pallavolista Andrea Zorzi e il ginnasta Carlo Macchini ora l'appuntamento è per le 11.30 anche qui in televisione su Fano TV dal santuario di Loreto avremo la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinal Begnamino Stella alle 11.30 in diretta poi credo e spero che potremo seguire anche in diretta dopo la celebrazione della messa anche qualche altra iniziativa perché dopo la celebrazione passeranno i veivoli i velivoli dell'aeronautica sulla Basilica insomma ci saranno un po' di cose spero che riescano a garantirci le immagini anche dall'esterno mentre alle 9.10 abbiamo l'udienza del Papa questa mattina alle 9.10 e vi ricordo che alle 7.30 non c'è la messa dalla Santa Casa perché ovviamente ci sarà alle 11.30 quindi la stiamo portando un po' alla lunga anche per questo motivo perché non abbiamo il collegamento con la Santa Casa delle 7.30 allora però siamo in chiusura comunque abbiamo l'ultima pagina selezionata che è quella dello sport ieri il nuovo presidente dell'Alma Juventus fano di calcio russo si è presentato alla città attraverso la stampa ho scelto il fano fidatevi di me è durata come un'intera partita la presentazione di Mario Russo quindi 90 minuti competere per vincere questo è il suo motto il nuovo patron ha spiegato le sue motivazioni e le sue strategie per rilanciare il club fanese intanto chi entra chi esce chi esce è Enrico Fattoffidani la sua esperienza qui a Fano è durata soltanto un anno dice Offidani che ha ceduto la squadra la società a Russo Russo mi ha subito convinto il sindaco serie ha detto ai tifosi nessun pregiudizio l'ex presidente ha salutato Fano il Granata dice come colore mi resterà nel cuore ed è tutto quindi grazie per averci seguito l'appuntamento è ovviamente per le 20 e 30 con il telegiornale Occhio alla Notizia a voi tutti l'augurio di una buona giornata arrivederci